Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento di politica, di cultura e di società di Blog Sicilia. Oggi comincia una nuova stagione che ci accompagnerà fino alla fine del 2022 e per tutto il 2023 fino all'estate del 2023, sempre che resti qualcosa di questo nostro povero mondo. Ma proprio per inaugurare questa nuova stagione e per portarci da soli un po' di fortuna, anche se non si dovrebbe fare, abbiamo deciso di ripercorrere la nostra storia un po' al contrario e di chiamare qui con noi colui che fu il primo ospite della prima puntata di Talk Sicilia. Quindi sono molto contento di dare il benvenuto a Vincenzo Paradiso. Benvenuto nuovamente tra noi. Grazie a voi sia per il primo invito che anche in remoto perché eravamo durante il Covid. Ma infatti io proprio da lì vorrei partire. Noi ci siamo conosciuti, ti abbiamo intervistato proprio nel periodo del Covid e il mondo sembrava che stesse affrontando una sfida epocale. In realtà da quel giorno in poi tante cose sono cambiate ma tutto sembra andare sempre per il peggio. Cosa ci può aiutare? cosa ci può far ritrovare quella che potrebbe essere una retta via? Io non sarei così pessimista e apocalittico come tu sei stato all'inizio del Covid e come sei oggi. Io però non mi ricordo completamente cosa avevo detto io. No, che comunque era un periodo di grande crisi e su alcuni temi quali la cultura, la fede, l'economia ci si interrogava abbastanza. Perché la visione che noi possiamo avere e dobbiamo avere anche guardando soprattutto il nostro passato è che le crisi hanno attraversato l'umanità fin dalle sue origini. Crisi dettate dalla guerra, crisi dettate dalla economia, crisi dettate da sentimenti religiosi o antireligiosi. Però ce la siamo sempre cavate. Però la verità è che in questi tempi noi stiamo affrontando contemporaneamente tutta una serie di crisi che sembrano dipingere un collasso sistemico nel nostro pianeta. C'è la guerra in Ucraina, ci sono tante guerre anche in Nord Africa, in giro per il mondo, c'è una crisi alimentare, c'è la crisi energetica, c'è una crisi sanitaria che ancora non accenna a finire, anche se si dice che questa pandemia sia finita. Cioè c'è tutto questo mondo che sembra sia andando veramente verso il precipizio. Cosa ci può salvare? C'è una possibile crisi sui Balcani. I Balcani si sa che non portano tanto bene. Si portano bene, possiamo parlare dello Yemen, possiamo parlare di tante crisi. Io non parlerei e non cercherei di riflettere con te e con me stesso sulle tante crisi che ci sono. Secondo me c'è un paradigma che oggi va studiato meglio, un po' meglio, e cioè la conoscenza delle crisi. Oggi più che mai noi abbiamo un problema di conoscenza di quello che è la crisi, di quello che è il nemico, di quello che è anche il mondo che ci attraversa e che è dato da due fenomeni, la velocità dell'informazione e il cambiamento dell'informazione e della formazione che è avvenuto con Internet. Pensiamo ai social che oggi attraversano nel bene e nel male ognuno di noi e tutto il mondo. Un esempio su tutti. Noi vediamo in diretta i sbarchi dei migranti mentre affogano, noi vediamo in diretta i missili che colpiscono Kiev piuttosto che il Donbass. È questo quello che è? È questo ma non solo. Noi attraverso i social vediamo anche un'altra cosa. Condizioniamo il nostro io e cerchiamo di condizionare l'io degli altri, che secondo me a livello psicologico è la cosa che più di tutti e in questo momento aggrava la situazione di quello che io dico la conoscenza del nemico. Noi siamo figli di un periodo quando l'ideologia imperversava e quindi avevamo idea di chi era il nostro nemico. Oggi noi cerchiamo di identificare il nemico. Possiamo identificare il Presidente Putin come nemico dell'Occidente oppure possiamo identificare il Presidente Biden come nemico dell'Oriente o dell'Europa o di tutti i vari sistemi. Però tutto questo è oggi molto confuso nella mente di ognuno di noi. ed è confuso anche in quello che sono tutte le varie, nei partiti. È confuso anche se il Papa ha dato un messaggio molto chiaro ad Astana anche nel mondo delle religioni, anche nel mondo delle chiese. Io vorrei puntualizzare questa posizione. Tu sei un esperto di cose della Santa Chiesa. Sei un uomo di fede con una cultura molto ferrata in materia di… Io sono un lavoratore che cerca di vivere come gli altri il quotidiano, interrogandosi e domandandosi che cosa accade. E le parole del Papa che sintetizza… Il Papa Malastana, lui dice, l'uomo, la persona umana è al centro delle religioni. Monsignor Pezzi declina in maniera ulteriore il fatto che Dio apre i cuori, ma l'uomo deve aprire la porta a questo movimento che Dio fa sui cuori. Che sia poi la religione rivelata cristiana, che siano le altre religioni. Il motore è sempre la persona. E la persona oggi gioca un ruolo fondamentale in tutto questo. La responsabilità della persona oggi può riuscire a condizionare quelle che sono dinamiche che nella vita abbiamo sempre conosciuto e abbiamo sempre avuto. Le dinamiche della guerra, le dinamiche delle grandi crisi. Penso che il rilancio del cristianesimo, tutti noi siamo d'accordo con i monaci che durante il Medioevo si chiudono in silenzio e trascrivono i testi per rimandarli. Quindi ci sono momenti nella storia in cui la responsabilità della persona e dell'io gioca un ruolo fondamentale. Oggi noi abbiamo un problema rispetto a tutti i nostri antenati al passato, che è il problema di una grande confusione della conoscenza, lo ribadisco. Oggi è come se noi vivessimo una vera e propria torre di Babbele. Troppa informazione significa nessuna informazione. Troppa informazione significa nessuna informazione e significa anche, non voglio essere troppo netto, anche che non tutti gli uomini hanno la capacità di percepire l'informazione nello stesso modo. Mi spiego meglio. Un dato oggettivo come può essere la guerra, come viene filtrato da tutta l'informazione sana, dalle fake news e da tutta l'informazione insana che c'è sul mondo. Allora, una persona… Però su questo punto bisogna essere anche abbastanza precisi e un po' pignoli, perché non è detto che in realtà quello che racconta l'Occidente sia realmente… Sono proprio cercando di dire questo. Cioè, se l'idea è Vlad the Mad, se l'idea è Putin assassino criminale, non ci sarà mai un dialogo per comprendere le ragioni delle due parti. E infatti possiamo dire che in questi ultimi giorni l'informazione è cambiata. L'informazione americana è cambiata, del governo americano, che ha una posizione diversa. E cito l'esempio dell'omicidio della figlia D'Aria Lugina, che oggi viene imputato dagli americani ai servizi ucraini. E così come sono stati molto netti… Peraltro ti posso fare, proprio per parlare di informazione, un grande quotidiano italiano, probabilmente il quotidiano più diffuso in Italia, nel raccontare la cronaca dell'omicidio di D'Aria Lugina, l'attacco, cioè le prime parole del pezzo, erano tale padre, tale figlia. Cioè, si è perso completamente di vista il nucleo forte della narrativa e si devono per forza appiccicare l'etichetta delle persone. Qua nessuno si è reso conto che è stato ucciso una ragazza di 30 anni, che non aveva mai ucciso nessuno, non aveva mai fatto una propaganda militare, è stato ucciso semplicemente per le sue idee. E si fa una sintesi che nel mondo non è mai servita all'umanità per crescere, che è quella della morte giusta. Bisogna assolutamente stare attenti sui concetti di morte giusta o di guerra giusta, perché così si va a identificare e si lancia un messaggio che poi tutto può avvenire perché si giustifica una mistificazione. In questo momento il nemico chi è? Allora, bisogna capire che oggi il Papa, non ascoltato devo dire, ed è molto strano che un Papa come Bergoglio, come Papa Francesco, che è stato attaccato alle copertine, ha avuto qualche mondiale per tanti anni. Non viene ascoltato su questo. E questo secondo te perché non viene ascoltato? Perché c'era un fortissimo interesse affinché si indebolisse l'Europa, perché la guerra è lì, di fatto l'avere è indebolita l'Europa. Quindi tu vedi questo scenario di guerra che c'è praticamente ai nostri confini, proprio al centro dell'Europa, perché se uno guarda con correttezza la cartina geografica, l'Ucraina si trova proprio al centro dell'Europa. Questo conflitto mira indebolire l'Europa rispetto a quali altri poli? Rispetto agli Stati Uniti, rispetto al mondo globale, rispetto alla Cina, rispetto alla Russia? Rende l'Europa debole di fronte a tutto il mondo. La Brexit, la crisi dei Balcani, la crisi dei valori che oggi demonizziamo come ad esempio sui valori della Polonia o sui valori dell'Ungheria. Cioè questa demonizzazione ci sta indebolendo. Un'asse che si rafforza è quello franco-tedesco, la Germania che si riarma. Non voglio andare per luoghi comuni, però oggi il vero centro del mondo è l'Europa ed è un'Europa frammentata e debole. Lo è sulle questioni della guerra, lo è sulle questioni dell'energia, lo è sull'avere perso una identità che forse non aveva. O forse stiamo rinunciando a quella matrice cristiana che in realtà è il principio fondante dell'Europa? Sì, dire che l'Europa è una matrice cristiana forse era giusto ai primi degli anni 50, quando partì sull'onda di De Gasperi, eccetera. Poi è diventata l'Europa della finanza. Poi è diventata un'altra cosa, perché l'identità non si crea su un valore astratto, l'identità si crea su fatti concreti e i fatti concreti sono assolutamente quelli che sono il rispetto dell'uomo e anche il rispetto della propria cultura. È difficile realizzarlo in Europa, perché l'Europa, così come i singoli paesi europei, hanno più identità. Noi viviamo in Sicilia e non possiamo dire che il popolo siciliano ha solo un'identità. Il popolo siciliano ha tante identità, tante culture. Un meraviglioso metti in poto. Bravissimo. Quindi l'idea dei padri fondatori era quella di fondarla sul concetto cristiano perché era il concetto che univa, ma non come valore astratto. Il concetto cristiano come invece l'anima e l'identità storica di questo popolo, su cui poi si poteva costruire tutto il percorso della modernità. La Chiesa cambia lentamente, ma la Chiesa è un motore di modernità, come Papa Francesco sta cercando di dimostrare, assumendosi responsabilità, colpe anche all'interno della Chiesa che magari prima venivano in maniera più lenta. Oggi quello è, secondo me, il momento per imitare un percorso e rilanciarci sul nostro futuro. Perché il problema è, la domanda che ci poniamo oggi, di caro Vincenzo, è che futuro stiamo lasciando ai nostri figli, in che condizioni lo stiamo lasciando. Penso alle crisi ambientali, penso alla crisi energetica, che lavoro potranno fare i nostri figli domani se l'Europa diventa un territorio così marginale rispetto a quello che sta succedendo. È banale dirlo, ma noi lasciamo il mondo che costruiamo noi, che contribuiamo a costruire noi. Non possiamo dare agli altri la responsabilità, si dice che i politici hanno la colpa di tutto. Ognuno di noi ha la colpa di un pezzo di storia e di vita che non è compiuta pienamente. Quindi in realtà c'è anche un problema di comportamenti individuali? Assolutamente sì, secondo me questa è una copea che non ci aiuta nel richiamare alcune parole fondamentali, che sono la responsabilità, che sono i doveri che si hanno. Riclamiamo tutti i diritti, ma nessuno di noi ricorda i propri doveri che si hanno nei confronti della propria persona, della propria famiglia, del proprio nucleo lavorativo, del bene comune, del contesto dove vivi, della città dove vivi. Noi costruiamo il nostro futuro costruendolo a partire da noi stessi, nel rapporto con chi ci sta più caro e più vicino. Cinici, egoisti e anche un po' laici, stiamo perdendo un pochettino il legame con Dio, magari un po' grossa detta così. Sì, oppure è cambiato il concetto di Dio, cioè si ha un concetto di Dio. Perché non cambia Dio nella sua ontologia, scusatemi il termine, cambia la percezione che noi abbiamo che diamo a Dio. Oggi noi attraverso ad esempio... Quindi abbiamo una fede utilitaristica in questo momento? Abbiamo una fede personale. Costituiamo una fede personale. Abbiamo una fede personale che si costruisce tanti alibi e che non si confronta con quello che invece è un percorso che tu devi fare. Più che una fede è un rito, diventa così. Diventa un rito, diventa una sensazione che è mutevole. La dottrina della Chiesa dà un percorso, non dà vincoli, dà un percorso. Accettare questo percorso per me è il massimo della libertà, perché all'interno di quel percorso io realizzo il mio io e costruisco un percorso che possa essere produttivo, che possa portare a un'utilità comune e al bene comune. Viceversa invece io costruisco nel mio egoismo fatti personali e allora lì non puoi più parlare di un confronto con Dio. La religione cristiana è straordinaria perché è una religione dove Dio si nasce in carne e ossa e si rivela all'uomine e tu devi fare il confronto con chi è arrivato sulla terra e ha detto io sono la verità e la vita. Le altre religioni che il Papa giustamente sta valorizzando e che vanno valorizzate è un percorso invece di ascesi verso le altre religioni che fatto con serietà e con rigore non porta a un libertinaggio dei tuoi comportamenti, porta a quel rigore a cui ci hanno abituato. Francesco per questa sua posizione non più intransigente nei confronti delle altre religioni perché in realtà la Chiesa Cattolica dovrebbe fare proseliti, il suo mandato anche vuole fare proseliti nel momento in cui fai la pace o fai accordi con le altre religioni non puoi fare più proselitismo. Non c'è una contraddizione di fondo in questo? Non c'è una perdita di radici identitarie? No, io non sono d'accordo sul fatto che la religione debba fare proseliti. La religione o comunque la Chiesa è di proposta, non è di costrizione. Quando diventa costrizione nell'arco o manipolazione diventa un'altra cosa. È di testimonianza e di proposta. Questo dice il Papa oggi, ma come ha sempre detto la Chiesa, come diceva anche Giovanni Paolo II, Ratzinger, Papa Giovanni XXIII, Paolo VI, non voglio citare soltanto quelli che ho conosciuto io, ma lì la violenza nei confronti dell'altro è una violenza che ti causa sempre un fatto che degenera. Invece la testimonianza di quello che tu vivi è quello che può riportare l'altro a ragionare sul suo ruolo nella vita. Cito l'esempio, per spiegarvi meglio, di una persona che per me è stata straordinaria, Don Luigi Giussani, che diceva sempre... Il fondatore di Comunità e Liberazione. Se tu incontri una persona che si sta suicidando, quale parole puoi dire? Puoi solo guardarlo negli occhi. Se lui nei tuoi occhi vede una speranza, lui non si suiciderà più. Se tu parli, che parole puoi dire a una persona di questo? Allora, il valore della testimonianza anche attraverso gli occhi, quindi col silenzio, col sapere vivere la solitudine. Questi sono i messaggi che oggi noi dobbiamo... Un mondo così veloce, un mondo così immateriale, un mondo che va verso la soddisfazione assoluta dei principi egoistici. Come si fa a conciliare queste due istanze? Si fa a conciliare perché oggi io incontro tante persone, e parto anche dalla mia esperienza, che invece vivono grandi momenti di solitudine. Ad esempio gli imprenditori. Gli imprenditori oggi vivono un grande momento di solitudine e hanno bisogno di una rete, di una struttura che li faccia incontrare, che gli faccia vivere la compagnia nell'affrontare tutte queste problematiche. Non è vero che oggi siamo meno soli, oggi siamo più soli. E la gente, le persone... La confusione media, il metaverso, ci hanno creato in realtà... Siamo diventati quasi... Cioè, quello che sta succedendo in Cina, il controllo digitale... Stiamo perdendo il nostro amico. Siamo alle soglie di un'altra grande rivoluzione, che è il quantum computing e il metaverso. Questo che cosa porterà? Allora, io siccome il tempo a nostra disposizione è finito, questi 24 minuti sono lavorati via, ma altronde parlando con una persona simpatica, preparata, effettuosa come Vincenzo Paradiso, non poteva che essere così. Prendiamo appuntamento, ci facciamo un bel focus sul quantum computing e sul metaverso, perché mi sembra di capire che tu ne hai abbastanza di cose da raccontare. Magari coinvolgendo qualche ricercatore universitario che tecnicamente... Io non sono un tecnico, entra nel merito di questo. La tua visione, come dire, molto concreta, è molto piacevole da ascoltare, quindi probabilmente è più semplice che la gente comprenda le parole di uno che non è un sapiente, un dotto in materia di quantum computing. Questo è solo un piacere. Va bene, allora, il tempo a disposizione non sto finito, è stata una bellissima cavalcata, speriamo che il mondo migliore arrivi presto per i nostri figli. Un ringraziamento a Vincenzo Paradiso e un ringraziamento a chi ci ha ascoltato. Alla prossima puntata del Talk Sicilia. Grazie a voi.